Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 delle migliori soundbar del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato la soundbar Philips B880510 TV. Con questa potente soundbar con subwoofer wireless otterrai il massimo dalle tue serate home theater. Sarai immerso nel cuore dell'azione con il suono 3D della tecnologia Dolby Atmos, anche negli spazi più grandi il suono è impressionante. Con un massimo di 400 watt di potenza sei pronto a lasciarti trasportare oltre le tue aspettative? E con la compatibilità PlayFi renderai questo dispositivo il tuo vero tesoro. Tutti i giorni sarai in grado di creare configurazioni multi-room, sincronizzare altoparlanti compatibili con PlayFi e persino creare un vero sistema audio surround. Tutto questo solo tramite la famosa ed efficace applicazione PlayFi. Per quanto riguarda la connettività godrai di una porta USB, due ingressi HDMI, una uscita HDMI e ARC-ARC. Inoltre le sue connessioni Bluetooth e Wi-Fi ti consentono di usarlo ovunque in casa. Tuttavia il basso è un po' impreciso. Come al solito su Top Tech se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato la soundbar 3.1 Dolby Atmos Sony HT-ZF9. Oltre ad essere compatibile con Dolby Atmos è compatibile anche con DTS-X. Questo è un modello 3.1 che offre molte funzionalità e dotato di un subwoofer wireless, ottimizzando la qualità del suono. Inoltre questo tipo di subwoofer wireless ti permette di posizionare più serenamente la soundbar sotto il televisore. Inoltre la riproduzione del suono è fornita di tre altoparlanti anteriori, rendendo il tuo salotto simile a un cinema. Questa soundbar offre un'immersione sonora multidimensionale e numerose opzioni di riproduzione audio e video. I suoi formati audio multicanale di ultima generazione migliorano la tua immersione. Il dispositivo ha anche numerose modalità di ascolto, tra cui la modalità News, che ti consente di concentrarti sulle voci. Provala e facci sapere la tua nei commenti! Al secondo posto abbiamo selezionato la soundbar Sonos Beam Compact TV. È un modello estremamente compatto che ti promette un suono potente. Si adatterà perfettamente alla stanza in cui la posizionerai. Inoltre il suo design moderno e attraente aggiungerà un tocco speciale alla tua camera. È un dispositivo Bluetooth compatibile con Google e Alexa. Chiedigli di cosa hai bisogno solo con la tua voce e lui eseguirà. Puoi ascoltare le notizie, configurare le tue sveglie e molto altro, con la voce. La qualità del suono è garantita da 5 amplificatori, che promettono frequenze alte e basse ben dettagliate. Per quanto riguarda l'uso è semplice. Infatti, grazie alla sua interfaccia touch, puoi controllare la tua musica solo con i gesti. Tuttavia, il tessuto tende a sporcarsi se non viene mantenuto correttamente. Quello che ti consigliamo di fare è di provarla e di scrivere la tua nella sezione commenti proprio qui sotto. Ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato su internet, clicca sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato la Bose Soundbar 500. Il marchio Bose offre un modello che ti soddisferà con le sue numerose qualità. Prima di tutto ha un design sobrio, compatto e robusto che promette una buona resistenza agli urti. Inoltre, con uno spessore di soli 4,4 centimetri, si adatta facilmente alla TV. Molti utenti, tuttavia, sono preoccupati che lo spessore di questo dispositivo possa avere un impatto negativo sulla sua qualità del suono. Sbagliato! Avrai diritto a una resa sonora impeccabile, con una calibrazione acustica automatica molto efficace. Inoltre, con l'assistente Google e Alexa, puoi facilmente gestire la tua vita quotidiana con la voce. Controlla la tua musica e ascolta le notizie semplicemente chiedendole. Ci piace anche il fatto che sia abbastanza semplice configurarlo con l'applicazione Bose Music. Scaricala e imposta la tua soundbar in base alle tue preferenze. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per le funzionalità più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta, mettici un mi piace e iscriviti al canale Top Tech per essere informato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!